Buongiorno, benvenuti a questa sedia stampa di oggi 10 settembre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Innanzitutto la scuola, perché più ci si avvicina la scuola e più si capisce che è un gran casino. Alcune sono già iniziate e si è già visto che non è tutto a posto. Non andrà tutto bene, come dicevano, quei cazzoni durante l'inizio di questa pandemia. Conte ai presidi ha detto che comunque si partirà il 14. Su questo ovviamente il Presidente del Consiglio fa bene, perché deve assolutamente fare iniziare la scuola. Pensate un po' voi se non inizia la scuola. Siamo stati i primi a chiuderla e saremo gli ultimi a farla riaprire. Beh, però i presidi dicono che c'è un bel casino e che soprattutto, pensate un po' voi, dove ci sono i grandi ritardi? Sui banchi. Non solo abbiamo speso 3 miliardi e questa non è colpa dei der commissari, ma è colpa evidentemente di un'idea folle per cui sono più importanti i banchi che la formazione. Beh, comunque sia, non solo abbiamo speso 3 miliardi, ma come era evidente dall'appalto, da come ci ha spiegato 100 volte Capone sul foglio, questi banchi non ci sono. Nel frattempo cosa hanno stabilito? Che siccome non ci sono neanche le aule, probabilmente, perché da marzo ad oggi non era possibile organizzarsi evidentemente per la scuola, che non mi sembra l'ultima delle cose, probabilmente gli studenti, sono 50 mila secondo Repubblica, dovranno andare mascherinati per tutta quanta la lezione, perché non ci sono le distanze sufficienti per fare lezione. Questo è l'inizio della scuola, poi ovviamente ci sono i soliti problemi della scuola italiana che evidentemente si vanno ad accavallare a quelli del Covid. Nel frattempo l'Italia sta decidendo di ridurre il periodo di quarantena e io vi dico è cosa buona e giusta, come fanno i francesi da 14 a 7 giorni, Speranza dice Repubblica per la prima volta possibilista si potrebbe tornare a 7 giorni. Insomma, in questa maniera cosa succede? Si evita il problema, quindi improvvisamente tutto l'allarmismo che abbiamo fatto sulle discoteche, sulla Sardegna, sui contagi, quando inizia la scuola, che non può diventare e non può essere subito e immediatamente richiusa, evidentemente il contagio magicamente passa da 14 a 7 giorni. Fantastico, la trovo fantastica. Voglio dire, un aperturista come me è contento di questa vicenda, visto che la carica viriale è più bassa e tutto quello che ci siamo detti mille volte che ci hanno spiegato Bassetti, Remuzzi e tutti questi signori. Però è fantastico come c'è questo inizio-cambio-passo. Nel frattempo il vaccino di Oxford non funziona. Gelo sul vaccino, il titolo di Repubblica. Tutte minchiate, tutte minchiate. Allora, cosa succede? Questo vaccino, come tutti i vaccini, deve seguire certe fasi. È uno dei pochi che è passato alla fase 3. Nella fase 3 ci sono, leggo i giornali, non i titoli, ci sono 30.000 persone che si testano il vaccino. E siccome è una cosa seria il vaccino, a dispetto di quello che pensano i Novax, queste 30.000 persone, anche se hanno un'unghia incarnita, devono andare a spiegare c'è un'unghia incarnita, perché evidentemente ci possono essere degli effetti collaterali di questo vaccino che non sono stati testati nelle fasi 1 e 2 e in laboratorio. Bene, uno di questi, c'è una cosa gravissima, ma perché gravissima, seria, è stata diagnosticata una sindrome infiammatorio che colpisce il midollo spirale. Siccome è una sindrome che può avere a che fare con il virus e quindi con il vaccino, si blocca il vaccino. È la prima volta che bloccano questo vaccino di AstraZeneca, di Oxford e di Pomezia? No! È la seconda volta. Durerà due mesi il blocco? Probabilmente no. Bisognerà vedere da cosa dipende questa sindrome di questo unico paziente su 30.000. Quindi vi è chiaro qual è. Cioè, bisognerebbe essere laici. Però io mi chiedo, toc toc al governo, quello che ha secretato e che mantiene ancora gli omissi sui due appalti e su 3.695 punti dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Perché tanta trasparenza sui vaccini in giro per il mondo? Giustamente, dico io, che possono preoccupare, alimentare i sentimenti Novax, perché io immagino che questa notizia i Novax come la possano alimentare. Vedete? Uccide il midollo spanale. Però in realtà la scienza funziona così, che le cose si dicono, si discutono, si combattono a faccia aperta. Non con gli omissi e non con i segreti. Ebbene, sono contento che AstraZeneca, Oxford e, come si chiama, e Pomezia di questa cosa ne parlino su tutti quanti i giornali. Ovviamente questa roba esce su New York Times, non Babbo Natale. Comunque sia, io trovo che vedremo nei prossimi giorni cosa succede. Ce ne sono altri sette di vaccini e vedremo quale sarà la reazione comunque isterica. Isterica, immagino, dello Stato italiano che invece quello sì, in maniera assurda, aveva già detto, prenotiamo i vaccini, è già pronto il vaccino, arriverà in ottobre. Calma! I vaccini così diventi veramente un alimentatore di tutto il complottismo contro i vaccini. Hanno una loro storia, bisogna testarli e bisogna vedere che non facciano male, come tutti i prodotti farmaceutici. Nel frattempo, voglio dire, la roba delle mascherine del Lazio è stupenda. Perché vedete, mentre qua abbiamo rotto le palle a Fontana perché avrebbe pagato 570 mila euro, che non ha pagato la regione di Camici per un'azienda di cui la moglie ha il 10%, gli aveva fatto un mazzo così mesi dei giornali, sul fatto che Zingaretti ha pagato 14 milioni per delle mascherine che non sono mai arrivate, e anzi, la società che non produce mascherine ma che fa tutt'altro, non gli sta facendo causa perché dice l'appalto era da 30, me ne hai dati soltanto 14, questa informazione la trovate solo sul tempo di Bechis. Cioè, il tempo di Bechis oggi si occupa sempre della questione dei mascherini del Lazio, che non è una cosa così, en passant. Sono 11 milioni di soldi dei contribuenti che non sono arrivati perché quei cazzoni dell'amministrazione regionale le hanno buttati nel cesso. Ma ragazzi, se per voi è tutto giusto va bene, però è l'informazione sempre da un, come posso dire, soltanto in una direzione. Sulla morte di Willy ci sono, drammatica morte di Willy, ci sono tutti i particolari. Quello che emerge dai particolari è che questi sono bestie. Quelli che hanno ucciso Willy sono esattamente le bestie che voi vedete nei bulletti di paese, nei bulletti di quartiere. Li abbiamo avuti tutti quanti noi da ragazzini. Cioè, tutti noi, lo dico orrendamente, abbiamo rischiato la vita di come lo ha fatto Willy, se ovviamente uscivamo, se ci mettevamo in mezzo, se conoscevamo qualcuno che non andava bene. Tutti noi abbiamo rischiato perché quello è la cattiveria di merde che girano in tutte le comitive dei ragazzini. Cioè, la merda c'è sempre stata. Questa merda questa volta si sono messi in cinque a uccidere questo poveraccio. Ed è una roba che mi fa accaponare la pella, non solo per la tristezza nei confronti di questo ragazzo che veramente era il più innocente di tutti, ma anche perché è una di quelle cose che ci è capitata tutta noi da ragazzini. Cioè, il bulletto di paese che ti voleva menare e che ti ha anche menato. Chi di noi non ha beccato un cazzotto da questi seste di vincia? È successo spesso a tutti quanti noi. Detto questo, in questo caso c'è un morto, c'è l'aggravamento, e c'è il branco che lo uccide. Tre di loro sono in galera. Uno pare che abbia parlato di arresti domiciliari, ma mi fa meno pena, non me ne fotte nulla. Cioè, quelli che partecipano allo stupro, anche guardando lo stupro, e qui è peggio di uno stupro, perché è una morte, un assassino, sono altrettanto colpevoli. Ovviamente con una mitigazione che decide la legge, ma mi fanno orrore. Quelli che guardano, quello che assestano il calcetto, quello che danno lo schiaffone iniziale, come quello che hanno messo ora gli arresti domiciliari, non mi fa meno pena dei tre che hanno ammazzato. Certo, con le gradazioni diverse della condanna che si mediteranno dopo un giusto processo. Ma il punto è un altro. Il punto è che Willy è subito diventato il caso per dividere il mondo. È perché ci siano delle geni, dei geni, che ne parlino. E oggi Sallusti se le cucina molto bene. Uno di questi, tolgo la Segre. La Segre è una signora che oggi dice sulla stampa, è la prova che il fascismo è ancora tra di noi. Io la Segre non la tocco, perché una donna che ci ha tatuati i numeri dei campi di concentramento sul braccio non si tocca. Può dire qualsiasi scemata, come in questo caso, e non sarà mai oggetto delle mie attenzioni. Ma invece la Ferragni e quell'altra là, quella che non sbaglia un fidanzato dagli anni Ottanta, come si chiama, Rula Zebreal, dovrebbe essere, forse dobbiamo presentargli ad Arcuri. Beh, insomma, quella che non ha mai sbagliato un fidanzato dagli anni Ottanta e la Ferragni, che dicono che questa è la cultura del fascismo, beh, insomma, voglio dire, io l'ho sempre difesa la Ferragni perché la trovo una grande imprenditrice, di se stessa, mi sta anche simpatica nel suo successo, diciamo, out of the blue, però non deve dire cazzate. Cioè, si occupasse anche di queste robe, ma evitasse di dire cazzate, perché quando la Ferragni dice il problema è la cultura fascista, vuol dire che la Ferragni, a parte le borsette, forse non ha vissuto in quello che succede nelle discoteche normali prima che lei fosse fotografata con dieci bodyguard con la quale gira lei. Questo non è il problema della cultura fascista, questo è il problema di qualsiasi cultura violenta che c'è in qualsiasi città italiana che non ha un cazzo a che vedere con la cultura fascista. E mi stupisco che la Ferragni dica una stronzata di questo tipo. Mi stupisco di meno da parte di Rula Zebreal, che di fatti la cazzata la dice tre volte più grande, quella che non sbaglia un fidanzato dagli anni Ottanta, sbaglia sempre qualsiasi un insottito, in questo caso dice che il problema è cos'è che ha detto? Aspettate, ve la dico bene, il rubro di Zebreal, perché lo scrive Sallusti in un pezzo fantastico oggi che dice che in realtà questa roba qua è colpa dei, come si chiama, di Salvini e Miloni, fascisti immaginari e violenza vera è il titolo di Sallusti e la Ferragni dice che è colpa di Salvini e di Miloni se questa cosa è fatta. Nel frattempo ovviamente perché parla di fascisti immaginari e violenza vera? Perché nel frattempo la violenza vera è quella di Grillo che mena un giornalista e nessuno se ne occupa e non mi sembra che quella che non ha sbagliato un fidanzato dagli anni Ottanta cioè Rula Zebreal si sia indignata perché Grillo mena un giornalista che mi sembra piuttosto grave. Non mi sembra che ci sia un... No, in quello invece mi sembra che ci sia un bipartisan consenso nel fatto che sta congolese che prende il rosario di Salvini e gli strappa la camicia peraltro dipendente pubblica c'è un impiegata c'è un raccoporto con gli enti locali beh insomma è figlia quella forse di un clima di violenza è una cretina secondo me non c'è né comunismo né niente dietro a quella roba là quella è una cretina ma quelli sono dei violenti che non hanno nulla a che vedere col fascismo però obiettivamente non si può mettere si deve mettere tutto nello stesso nello stesso calderone e Sallusti fa bene a separare le vicende e nel frattempo il CSM non se ne accorta nessuno se non fosse la verità oggi un altro suo componente si autosospende perché è incasinato con le cagate che aveva fatto e con le amicizie di Palamara niente non vi preoccupate semplicemente l'organo di governo della magistratura quello che dovrebbe giudicare i magistrati decidere le loro carriere insomma un componente dietro l'altro si dimettono e il CSM facciamo finta di nulla presieduto dal Presidente della Repubblica non ce lo dimentichiamo Mattarella il mondo è pericoloso? beh questo è un pezzo favoloso di Danilo Taino che con dei numeri precisi come sempre a pagina 40 del Corriere della Sera vi dice ragazzi toc toc voi che ci fate sempre due palle così col mondo pericoloso gli uragani la siccità eccetera sapete cosa succedeva soltanto all'inizio del Novecento? beh tutti i numeri che dimostrano come il mondo oggi sia molto meno pericoloso di quello che fosse soltanto ieri dal punto di vista diciamo dell'eternità di questo mondo nel frattempo c'è un pezzo favoloso oggi due pezzi valgono la pena leggere quello di Taino e quello di Giuliano Ferrara perché ieri ve l'ho segnalato le dichiarazioni folli del Papa insieme a Petrini e oggi Ferrara sul foglio mi fa godere come un riccio dovete leggerlo questo Papa è tutto moralismo ideologismo e pauperismo e ora se la prende pure con la ricerca sui vaccini perché rompe pure le balle il Papa sui brevetti vaccini profitto e tutte le altre cose e poi la comunicazione del Papa secondo Ferrara Dio nasce a Natale risorge a Pasqua e per il resto è subito ONU ONG ideologismo anti-americanismo pauperismo generico beh geniale quando Giuliano scrive così e quando prende queste posizioni completamente anticonvenzionali rispetto allo stesso credo politicamente corretto del foglio io godo come un riccio ve la rileggo ancora questa frase Dio nasce a Natale e risorge a Pasqua questo è il dialogo è l'unico tipo di comunicazione che fa il Papa cioè quella basic Dio nasce a Natale risorge a Pasqua e per il resto è subito ONU ONG ideologismo anti-americanismo pauperismo generico questo è il ministero del Papa Francesco andiamo bene nel frattempo quello che viene è davvero grave se ne accorgono i giornali a Lesbo dove l'isola altro che Lampedusa ci sono 13.000 13.000 immigrati una bomba umana che potrebbe salire per la rotta balcanica e non solo va a fuoco il campo che ne dovrebbe raccogliere 2.000 e lì stiamo semplicemente sottovalutando quello che succederà da quella parte del mondo beh fantastiche due interviste la Cirinna che si autocandida a sindaco di Roma e la Castelli il vice ministro che ci spiega una cosa molto semplice sul mess è obsoleto il mess è obsoleto è fantastica io l'adoro in conclusione vi devo citare Saviano perché Saviano oggi viene trattato come il più grande politologo del mondo dalla stampa perché la stampa oggi cosa fa? l'apertura della stampa un'intervista a Saviano ma io dico ma vabbè ognuno ha il suo gusto e qualcuno disse ma forse è stato proprio il fatto a dire hanno sbagliato perché hanno messo un giornalista di destra alla Repubblica che è un giornale di sinistra e un giornalista di sinistra la stampa che è un po' più moderata forse è vero non lo so se sia vero e quanto sia vero ma l'intervista a Saviano oggi è imbarazzante è una specie di metra pensè della stampa e dell'azionismo torinese che dice che Zingaretti siccome vota sì al referendum è nullo nullo beh forse possiamo anche essere d'accordo ma su Di Maio sapete che cosa dice? se cosa dice Saviano su Di Maio intriso di una cultura profondamente autoritaria e xenofoba secondo voi secondo voi non voglio fare taxi driver are you looking to me? are you looking to me? pensate veramente che io difenda Di Maio? ma ragazzi ma io che non ho mai difeso Di Maio in vita mia ma non mi posso pensare di dire con Saviano che quello è impriso di una cultura profondamente autoritaria e xenofoba ma questi sono matti ma come si fa a dire una cosa di questo tipo di Di Maio? gli possiamo dire quello che vogliamo ma insomma profondamente intriso di una cultura autoritaria e xenofoba allora vale tutto la verità è che è lo specchio di quello che è Saviano Saviano è dentro di sé uno xenofobo autoritario a cui gli fanno schifo tutti tranne i suoi quattro amichetti che lo compiacciano oggi però sul Saviano si scaglia il fuoco amico quello che l'ha sempre corteggiato del fatto perché questa cosa che vota no al referendum dei loro amici grillini proprio non gli va giù e lo mette insieme la sinistra per Salvini a sua insiaputa cioè per il fatto Saviano diventa per Salvini quando questi galli di sinistra si azzanano uno con l'altro godo anche in questo caso come un riccio anche se quello che più mi è piaciuto oggi è Ferrara bene ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it e per tutti quante le zuppe sempre la mattina ciao